Sono qui all'Expo di Bologna, vi presento Federico Veneziano, fisioterapista, ideatore, realizzatore di TAC-T, che verrà presentato sul prossimo numero di MR, giornale di medicina, fisica e riabilitazione. Grazie. Prego. Sono contento di essere qui oggi a Bologna, due grandi giorni di fiera qua a Expo Sanità. Sono contento che siamo riusciti per la prima volta a portare il nostro TAC-T, il nostro nuovo ausilio magnetico di presa per disabili. Siamo qui oggi con il nostro bello stand e riusciamo finalmente a far vedere a terapisti, a medici e a persone che sono venute oggi a trovarci cos'è il TAC-T. Quindi il TAC-T brevemente è questo ausilio che abbina un palmare magnetico da indossare in autonomia per persone che possono essere afflitte da disabilità gravi, come tetraplegia, lesioni parziali o lesioni totali del plesso, lesioni di amputazione di dita o scherosi multipla. Quindi tutto quello che può dare un grande deficit di presa all'arto superiore. Semplicemente abbiamo creato un sistema magnetico che abbina il palmare a degli oggetti customizzati con magneti e che rendono possibile l'intercambio con un solo ausilio di più tools. Ad esempio qui abbiamo il nostro tool porta tutto, chiamato anche l'attatore universale, dove possiamo mettere qualsiasi cosa che possa entrare in questo cilindro. Quindi possiamo pensare a una penna, un rasoio da barba, uno spazzolino. E siamo arrivati anche a poter far bere queste persone portando ad esempio un portabottiglia, che può essere anche portatazza o portaborraccia, e riuscire a rieducare il paziente in un gesto funzionale importante che senza il nostro TAC-T sarebbe stato o molto difficile o impossibile. Quindi riusciamo a parlare finalmente di autonomia grazie al fatto che il paziente in totale autonomia senza l'aiuto del caregiver può indossare il TAC-T, può levare il TAC-T e utilizzare super comodo, super veloce un oggetto che in leggerezza e dinamicità può dare un comfort e di nuovo un'affidabilità nel gesto funzionale. Quindi grazie, grazie a MR che ci ha permesso di avere un articolo e di spiegare la nostra idea, idea che è nata in università e poi al Politecnico di Torino come start-up, e adesso un'azienda che può portare all'ex costabilità il suo prodotto. Grazie.